Ma che passi? Chi capisci quelli di te? Perché? Si mi capisci. Però Natale senza bacio. Si, mi è arrivato Babbo Natale, sa? Guarda che te l'ho portato. Che mi hai regalato? Ti ho fatto la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa. Mi piace. A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio. Grazie. E a te, ti ho comprato un polore arcobaleno. E' pieno dei colori. Ci ha rovinato la sorpresa. No, no, mi sono rovinato proprio io. Quale sorpresa? A tua madre ho speso 120.000 lire. A Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa che la signora sua ha la quarta misura 160. Dico, no, c'è la settima. C'è la 216.000 lire. Hai capito quanto ho speso? Artù, quanto sei delicato.